Eccoci Gloria, un saluto a te e ai nostri telespettatori, rinnoviamo il nostro appuntamento qui dal salotto GP Motors per parlare proprio di un evento che coniuga sport, tradizione e anche eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Per parlarne do il benvenuto al nostro ospite che è Roberto Apolloni, presidente dell'ASD Chianina, che ringrazio per la sua presenza. Il tema è proprio questo, la Chianina ciclostorica. Siamo arrivati, Roberto, alla nona edizione. Sì, siamo arrivati alla nona edizione e siamo in fermento per i preparativi per svolgerla. Insomma, siamo quasi pronti, dobbiamo mettere a punto alcune cose del nostro programma, però diciamo che ci siamo. Ricordiamo intanto ai nostri telespettatori le date. Intanto per invitarli a non prendere impegni si va dal 16 al 18 di giugno, ma noi abbiamo fatto questa intervista intanto perché le iscrizioni sono aperte e soprattutto per ricordare anche quello che prevede questo evento, che come dicevamo ha sì le due ruote, la passione per le due ruote come elemento principale, però riesce a coniugare anche tanti altri aspetti che valorizzano il territorio, in particolare in questo caso la Val di Chiana. Sì, il nostro intento è quello di valorizzare e portare la gente a conoscere la Val di Chiana. La ciclostorica, la pedalata di domenica, di domenica 18 diciamo è il fulcro, però nei tre giorni che precedono la gara, è una verità virgolettata forte, diciamo che abbiamo un paese acceso, un paese dove sono a disposizione stand e musica per poter passare tre belle serate. L'abbiamo condita con le nostre iniziative collaterali, la principale è Chianina Comics, un fiore all'occhiello che non dico che è quanto la ciclostorica, ma stanno molto bene insieme perché ci permettere di esprimerci e far esprimere personaggi, artisti da tutta Italia con la loro arte, la grafica umoristica. Quest'anno, ora solo per approfondire, abbiamo scelto un tema che è attinente al 100%, ricorrono i 100 anni dalla nascita di Benito Iacovitti e non potevamo esimersi da dare un contributo e un ricordo al personaggio. Uno dei maestri del fumetto italiano. Diciamo sono tutti i suoi allievi quelli che vengono da noi e il tema è l'assurdo mondo di Iacovitti, per ricordarlo. E chiediamo agli artisti di esprimersi tenendo un filo conduttore che è quello di Iacovitti e poi alla loro fantasia si è dato il largo via. E questo ovviamente è un altro degli appuntamenti, come ricordava Roberto Apolloni, particolarmente sentito. Tornando invece alla chianina ciclostorica, ricordiamo anche quali sono le caratteristiche che portano poi anche a chi si iscrive e chi partecipa a contribuire anche con un look particolare. Certo, diciamo che questa è nata da un'idea pazza di Giancarlo Brocci, pazza, visionaria, nel 97 a Gaiole Enchiate. Ha contagiato il mondo e di conseguenza anche noi vicini. Diciamo che la prerogativa è quella di rievocare un ciclismo storico, un ciclismo vero, un ciclismo fatto di fatica. E come facciamo con i suoi mezzi? Biciclette antecedenti all'87, maglia di lana e poi giù giù, fino ad arrivare ai bici dei primi del Novecento, giro ruota, persone che hanno veramente incarnato questo spirito e si fanno delle imprese che vanno al di là della competizione, ma è proprio il gusto di compiere un'impresa con un mezzo del genere vestiti come i tempi, belli e con tanta passione affrontare belle salite. Questo è lo spirito della ciclostorica, una bella rievocazione. In questo frangente tutti gli anni parliamo, ospitiamo personaggi del ciclismo storico, vecchi campioni. Abbiamo avuto l'onore di avere in mezzo a noi Felice Gimondi, è cito solo lui perché purtroppo ormai non lo potremo più vedere. È passato per Marciano e ha lasciato un segno, che non è stato tanto quello del campione ma quello dell'uomo. E da lì molto probabilmente deriva il campione dall'uomo. Voi proponete due differenti tipologie di percorso, giusto? No, noi proponiamo tre percorsi più un percorsino di avvicinamento. In pratica partiamo con un percorso da 20 km che è il percorso garbato dove la famiglia può percorrere per arrivare al ristoro principale e poi abbiamo altri tre percorsi da 38, 55 e 75. Cerchiamo sempre di non pigiarci troppo. Sì, anche il 75 è impegnativo, però se lo fai con lo spirito giusto ti diamo la possibilità di goderti un eccellente panorama della Valdichiana, poter gustare le eccellenze della Valdichiana, le eccellenze delle massaie che ci preparano i crostini. Ecco perché un altro punto importante, lo ha citato poco fa, sono proprio i ristori. Sì, i ristori, i ristori sono il nostro punto di forza, forse anche perché siamo più gente da ristoro che da bicicletta, perciò ognuno fa quello che riesce a far meglio e diciamo che i ristori ci vengono bene. Coinvolgiamo varie associazioni della Valdichiana, dalla Proloco del Monte con la porchetta, alla Saga della Nana, a tutte quelle che vogliono portare il loro contributo, dai, come si dice, la compagnia di ballo folcloristico di Lucignano, se non quella di Cortona. Cerchiamo di mettere insieme nel punto di ristoro il momento di relax, che ora si chiama relax, ma era di riposo del contadino, perché noi siamo contadini e li facciamo viaggiare nella nostra terra. La nostra terra era cadenzata dalla messa e da mangiare, insomma, oltre che lavorare. E noi vogliamo ridare quella colazione corposa che facevano i nostri contadini quando rientravano o dalla stalla o dal primo giro del campo, che rientravano in casa e si mettevano a mangiare e facevano la colazione vera. Pane, vino, prosciutto, l'assaggio dell'arosto, la domenica, e tutto quello che concerne la convivialità, in certe cose. Ricordiamo, Roberto, per chi poi, appunto, anche incuriosito da queste informazioni, volesse iscriversi, come può fare anche per reperire ulteriori informazioni? Allora, il canale di iscrizione è molto semplice. Il nostro sito, che si può raggiungere da tutti i social, comunque è la Chianina ciclostorica e seguire le indicazioni per poi andare a cliccare e essere uno dei nostri. Ringraziamo Roberto Polloni, presidente della S di Chianina, per questa illustrazione dettagliata di quello che sarà il programma della nona edizione della Chianina ciclostorica. A te, Gloria. Ti vedo già in sella, Riccardo, tra il risorbo e l'altro. Grazie a Riccardo Siccarelli. Ci prendiamo la pausa e poi siamo trappi.